Posso dire di essere veramente contenta che io e le mie compagnie abbiamo assistito e partecipato a questo convegno vita d'atlete dove si è parlato di vari fattori dall'alimentazione all'importanza della prevenzione o del seguito comunque medico e ginecologico perché alla fine la vita d'atlete è una vita fatta di concatenazione di vari fattori che ci portano poi a performare bene sul campo quindi è di fondamentale importanza poterli unire e poter prestare attenzione ad ogni singolo dettaglio. Allora Osteoplus è il nostro orgoglio insomma la nostra creatura è il nostro dispositivo medico e siamo felici di averlo introdotto nel mondo sportivo perché è un grande supporto insomma ha una grande valenza e si può rilevare veramente esaustivo per risolvere molti problemi della traumatologia e anche soprattutto nei casi in cui ci sia il trauma ma anche soprattutto nella prevenzione perché insomma le atlete sono sempre sottoposte a stress fisico e soprattutto per le donne ci può essere la possibilità di avere delle condorpatie quindi dei problemi sui menischi sulle articolazioni quindi l'Osteoplus si rivela veramente efficace in questo. Perfetto noi abbiamo fatto una campagna di prevenzione tramite la mascot di cui ne sono il presidente la campagna si chiama Infofertili è una campagna che sensibilizza tutte le donne in particolare le ragazze più giovani a fare una serie di screening preventive per la loro salute salute femminile grazie alla quale con questi screening sono semplicissimi dal PAP test all'HPV DNA test e controlli ecografici abbiamo fatto sì che la prevenzione entrasse nelle case di tutte le ragazze che hanno bisogno questo l'abbiamo fatto grazie alle ragazze del calcio femminile che divulgheranno il messaggio sia già nell'anno precedente nell'anno passato ma anche nel prossimo anno quindi voglio fare un ringraziamento alle atlete per la loro disponibilità affinché ci sia una sinergia tra il mondo della salute e quello dello sport perché solo con la sinergia che si può andare nella giusta direzione grazie a tutti